Entusiasmo, passione per i motori e amore per la natura. Questi gli ingredienti che fanno del club Enduro a tutta di Villa Basilica una realtà unica nel suo genere in Toscana. Nato quest'anno con già più di 100 iscritti, il club unisce infatti lo sport all'attenzione per l'ambiente ed ha raggiunto un'intesa con il comune di Villa Basilica proprio per la cura del territorio. Siamo il primo club Toscana Enduro a avere stretto una convenzione con un accordo con il comune per i servizi di sorveglianza e monitoraggio del territorio come protezione civile. Siamo il club a tutta di Villa Basilica. Soprattutto gli enduristi terranno d'occhio i boschi di Villa Basilica in funzione di prevenzione antincendio ma anche per portare aiuto alle persone disperse o in difficoltà. L'intesa con il comune è stata celebrata con una moto cavalcata conclusasi sulle Pizzorne. Il club ha anche l'obiettivo di mantenere alto il ricordo di due cari amici che se ne sono andati troppo presto Stefano Perini e Mario Flosi, conosciuto anche con il nome di Varichina.